Siamo al quarto appuntamento del ciclo dedicato ai vaccini, percorso che è stato organizzato prevalentemente dal dottor Carigioni, Presidente della Commissione Pestone, con la quale collaboriamo molto stessi. Ecco, il supporto naturalmente è di condizione calitro e abbiamo anche il riconoscimento del Muse, il patrocinio puramente determinato. I quattro percorsi sono stati, diciamo, aggiunti dalla presenza di illustri studiosi, dei sei febrali del professor Vincenzo Pronze, dovrebbe essere l'immunoterapia di 100 anni di scoperti e licenziati, il 13 febbraio il professor Massimo Pizzato sui vaccini nelle malattie infettive urbane HIV-Coin, il 20 febbraio i vaccini per la prevenzione e la cura del cancro nell'uomo, questo Guido Grandi, e questa sera abbiamo il dottor Giovanni Donati che ripetiamo naturalmente sul tema dei vaccini negli animali da reddito e da compagnia. Lascio la parola al dottor Carigioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti e buonasera e ben trovato il dottor Donati Giovanni. Il dottor Donati Giovanni è un medico veterinario, ci tengono a dire che i veterinari siamo laureati in medicina veterinaria, giustamente, si è laureato all'Università degli Studi di Bologna nel 2002, è specialista in ispezione degli alimenti di origine animale, è un dirigente veterinario della sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche all'unità operativa all'uso di Bologna. Esperienza anche in medicina veterinaria, aria clinica animali da compagnia e da reddito di consulenza zootecnica. E quindi è un esperto a tutto campo, nell'ambito che finora non abbiamo trattato in questa serie di conferenze dedicata agli vaccini, al ruolo e all'importanza degli vaccini. Però, siccome animali da reddito o da compagnia tutti o quasi tutti ce li abbiamo, era importante aprire anche questo aspetto della vaccinazione e ci serviva un esperto. Lo abbiamo cercato un esperto e abbiamo trovato finalmente il dottor Donati Giovanni, che ci parlerà di questo argomento, i vaccini negli animali da reddito e da compagnia. Grazie per aver accettato e per essere con noi questa sera. Ok, un attimo che mi posiziono. Ok, vedete lo schermo? Benissimo. Ok, allora, intanto buonasera a tutti. Sono io invece a ringraziare l'associazione Rosmini, il professor Grandi, il dottor Galligioni, che mi hanno invitato in queste serate. Io sono onorato di poter prendere parola dopo che l'hanno fatto esponenti di riferimento dell'accademici e della medicina umana, prima di me. Io sono, come diceva il dottor Galligioni, sono un veterinario, ho lavorato prima di ora nel campo della clinica, chirurgia dei piccoli animali, ma anche nel campo della zootecnia, in quanto dalle mie parti, nell'appennino romagnolo, c'è un allevamento particolare che si chiama linea vacca vitello, abbiamo allevamento di bovini di razza romagnola, le madri hanno con sé i vitelli che poi a sei mesi vengono venduti in pianura e vengono ingrassati. Questa sera proverò a parlarvi di vaccini negli animali da reddito e da compagnia. Ovviamente l'argomento è vasto, enorme, chiaramente solo in medicina umana abbiamo un solo animale da curare, mentre in medicina veterinaria gli animali sono tanti. Attualmente sono assunto presso l'USL di Bologna, presso la sanità pubblica veterinaria, area sanità animale. I vaccini negli animali da reddito e compagnia, i vaccini in generale nella medicina veterinaria, sono un caposaldo, appunto, e sono fondamentali. Adesso vi farò un attimo un quadro della veterinaria, perché spesso e volentieri, adesso che ho cambiato lavoro, i miei colleghi, i miei amici anche, mi incontrano e mi dicono ma dove lavori? Cosa fai adesso? E io rispondo, lavoro presso l'USL e già mi guardano un pochino straniti. In più, adesso abbiamo cambiato sede, ma recentemente, prima la sede dell'USL di Bologna era presso un ospedale, quindi mi dicevano c'è un veterinario che lavora all'USL e lavora in un ospedale. Era una cosa che gli fa strano, anche perché nell'immaginario collettivo ovviamente il veterinario è colui che cura gli animali e quindi lavora in ambito clinico, chirurgico, specialistico in varie tipologie di animali. Abbiamo gli animali da reddito, quindi stiamo parlando di avicoli, di bovini, di cavalli, di suini, ovi caprini, di conigli, di pesci, ma anche di api, perché le api producono il miele e quindi sono anche loro sotto osservazione da parte dei veterinari. Poi abbiamo gli animali da compagnia, ovviamente i cani gatti, quindi il veterinario classico. Recentemente, anzi negli ultimi anni, abbiamo anche un'altra tipologia di animali che sono gli animali esotici, quindi ci sono colleghi che si occupano di conigli, furetti, piccoli roditori, retti, gli uccelli, gli anfibi, pesci ornamentali, colleghi che si occupano di animali selvatici, animali da circo, eccetera. Quindi abbiamo una vasta platea. Ovviamente c'è anche tutto un settore mangimistico perché a questi animali bisogna dargli da mangiare e quindi colleghi impiegati nella nutrizione di questi animali, quindi nella formulazione di diete particolari per ogni animale e per ogni tipologia di animale, quindi animali non so, in latazione, in asciutta, in grasso, colleghi che sono occupati in mente nel mondo farmaceutico, sia umana che veterinaria. Fortunatamente abbiamo dei colleghi bravissimi che lavorano nel mondo della ricerca e poi c'è un settore che non tutti conoscono, che è quello dell'industria alimentare. Infatti tutti i prodotti d'origine animale, la carne, le uova, il latte, il formaggio, il miele, i crostaci, i molluschi, sono tutti controllati da veterinari. La professione in ambito clinico è in mano al libero mercato, cioè non c'è un servizio sanitario nazionale, quindi tutti i colleghi lavorano presso strutture private e quindi se una persona ha bisogno perché il proprio animale non sta bene, ovviamente è tutto a carico del proprietario. Inoltre c'è anche una sanità pubblica dove appunto sono assunto attualmente, quindi una sanità pubblica veterinare, quindi ci sono veterinari ufficiali assunti presso le ASL territoriali, quindi aziende sanitarie locali. La sanità pubblica veterinare in Italia sotto il Ministero della Salute e poi c'è un lavoro di coordinazione da parte delle regioni. Cosa fa un veterinario nella sanità pubblica veterinaria? Esercita un'attività di controllo ufficiale sul rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare. La sanità pubblica è divisa in area A e C, cioè si occupa di sanità animale, benessere animale e sicurezza alimentare nella fase primaria. Cosa vuol dire? La fase primaria è, esempio, mungitura, igiene della mungitura, quindi va a controllare proprio in stalla come avviene la mungitura. Poi ci sono colleghi di area B che si occupano della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti di origine animale. pensate solo a un macello bovino o un macello suino, all'interno dell'azienda che macella c'è un ufficio, un veterinario ufficiale che dichiara idonee, controlla le carni e le dichiara idonee al consumo umano oppure le fa distruggere perché quelle carni possono dare delle problematiche all'uomo. Inoltre la sanità pubblica veterinaria insieme agli istituti zooprofilattici che sono i laboratori di riferimento della sanità pubblica per la sicurezza alimentare sono istituti interregionali per quello che riguarda l'Emilia-Romagna insieme alla Lombardia mentre per la provincia autonoma di Trento abbiamo l'istituto zooprofilattico delle Venezie che è insieme alla Friuli Venezia Giulia alla provincia autonoma di Trento di Bolzano. Quindi la sanità pubblica veterinaria insieme agli istituti zooprofilattici hanno anche altre attività di controllo ufficiale che sono il controllo delle malattie degli animali e delle zonosi. Quindi iniziamo a entrare un pochino nell'argomento. Cos'è una zonosi? Lo sapete benissimo è una qualsiasi malattia infettiva che può essere trasmessa dagli animali ovviamente animali escluso l'uomo all'uomo direttamente o indirettamente tramite organismi vettori o in gestione di alimenti infetti. Io vi ho sottolineato gli insetti in questo disegno in questa raffigurazione perché con i cambiamenti climatici purtroppo dovremmo fare i conti sempre più con malattie che si diffondono tramite insetti vettori. E quali sono i patogeni che possono essere trasmessi in generale? Quindi le zonosi sono di origine batterica, virale, parassitaria o anche di origine prionica. Ricorderete nel 96 la famosa mucca pazza che è un'encefalite spongiforme bovina che poteva essere e quindi una malattia da prioni che poteva essere trasmessa all'uomo che si alimentava con carne ovviamente che conteneva prioni. Nell'uomo ovviamente dava la sindrome di Creutzfeldt-Jakob. Si stima che il 75% delle malattie emergenti hanno origine zonotica. Quindi qui vedete un elenco delle alcune zonosi quelle principali su queste zonosi si fa controllo sorveglianza alcune malattie di queste sono in un piano di eradicazione come la tubercolosi da Mycobacterium bovis come la brucellosi ci sono malattie emergenti come la West Nile che viene trasmessa da un insetto che colpisce l'uomo ma anche il cavallo. Abbiamo la lesmania lesmania il cui serbatoio sembra essere proprio il cane. Poi ci sono delle zonosi emergenti queste sono lesioni da monkeypox virus cioè dal vaiolo delle scimmie recentemente ho letto che c'è stato un focolaio in Toscana quindi proprio la recente pandemia che cosa ci ha insegnato che cosa ha rispolverato un concetto fondamentale che è quello dell'unica salute perché la salute umana la salute degli animali e la salute ambientale sono strettamente interconnesse quindi le patologie vanno affrontate in maniera interdisciplinare e quindi chiamando in campo tutti i professionisti dei vari settori ed è proprio per questo che io sono veramente contento di essere qua cioè che è stato chiamato un veterinario in serate in cui si parla di vaccini umani anche quale miglior argomento per esprimere questo concetto se non che se non appunto i vaccini la storia dei vaccini ce lo insegna vedete in alto a sinistra c'è una mammella sana queste queste sono venature come vedete questa è una mammella sana molto irrorata e sotto invece abbiamo una mammella colpita da vaiolo bovino il vaiolo bovino è una zonosi ai tempi di Jenner nel siamo a fine del 1700 lui osservò ebbe un'intuizione ai tempi ai suoi tempi chi mongeva le mucche erano le vacche erano le donne e ovviamente le mongevano a mani nude e quindi si infettavano con un col vaiolo bovino e dava nelle persone il vaiolo bovino davano delle lesioni localizzate una forma meno invasiva e meno violenta rispetto al vaiolo umano e Jenner notò che queste donne non si ammalavano o di vaiolo umano quindi erano in qualche modo immuni quindi sapete benissimo che poi lui utilizzò materiale proveniente da lesioni di una vacca per immunizzare il bambino del suo giardiniere infatti il termine vaccino è proprio un aggettivo latino vaccinus che è proprio della vacca quindi da una vacca è partito tutto diciamo così ovviamente il vaiolo sapete benissimo che è la prima malattia radicata tramite il vaccino il vaiolo bovino è una malattia che è andata quasi scomparendo in seguito alla meccanizzazione della mungitura e ovviamente ai dispositivi di produzione individuali quindi i guanti però il serbatoio del del vaiolo bovino sono i i ratti e i cioè i roditori i roditori selvagici i ratti le ervicole e come vi dicevo all'inizio negli ultimi anni come animali da compagnia sono considerati anche i i ratti e ci sono delle persone che vanno in giro con il ratto sulla spalla qui vi ho vi ho messo delle fotografie di questo articolo del 2009 ci sono quattro ragazze che sono state contaminate con il vaiolo bovino perché avevano come animali da compagnia i ratti i ratti lo sapete si mettono nella spalla quindi abbiamo qui quattro immagini ma sono in realtà tre persone l'immagine a vedete una lesione vaiolosa del braccio l'immagine b della spalla e mentre le altre due immagini è la stessa persona con l'evoluzione della lesione l'escara che si è formata in seguito al vaiolo si è scoperto che i ratti provenivano dallo stesso allevamento che si trovava nell'est europeo queste persone non si conoscevano ovviamente sono quattro casi distinti però hanno lo stesso periodo mentre negli animali la vaccinazione negli animali rapidamente sempre nello stesso periodo in cui Jenner mise a punto il vaccino contro il vaiolo c'era una procedura di immunizzazione per quello che riguardava la peste bovina dovete sapere che la peste bovina era una malattia devastante immaginate a quei tempi non solo dal punto di vista alimentare ma avere un bovino fuori uso voleva dire non avere più un trattore per poter lavorare i campi per tutto insomma si stima che dal 1612 al 1714 vennero sterminati il 90% del bestiame europeo e a seguito di questa epidemia proprio nel 62 nasce la prima scuola di veterinaria a lione la peste bovina determinava appunto queste lesioni vedete qui c'è una bocca di un bovino in alto trovate il labbro superiore in basso il labbro inferiore i bovini hanno solo la dentatura hanno solo gli incesivi inferiori vedete queste erosioni che qui le vedete nella bocca ma immaginatevi in tutto il tratto gastroenterico quindi in una prima fase della malattia avevamo perita di saliva dalla bocca l'animale non mangiava febbre dopodiché si manifestava una diarrea e un'alta una altissima percentuale di bovini veniva a morte c'era appunto come vi dicevo prima una procedura di immunizzazione che consisteva nell'inzuppare una funicella nelle secrezioni nasali di un bovino colpito da peste poi si faceva una incisione nella piega della gioviaia che è quella piega che va dal collo fino all'entrata del petto una piega cutanea e si in questa lesione si inseriva questa funicella era una pratica una pratica così sperimentale che prese campo perché sembra che gli animali manifestassero una malattia molto più blanda questa è una malattia è stata la prima malattia degli animali ad essere debellata a livello planetario dichiarata debellata nel 2011 l'ultimo focolaio è stato in Kenya nel 2001 e a chi dobbiamo dire grazie dobbiamo dire grazie al vaccino anche al vaccino sviluppato negli anni 50 dal dottor Walter Prowright ovviamente in medicina veterinaria non abbiamo solo i vaccini si hanno altre tecniche che in medicina umana fortunatamente non ci sono che sono quelle dell'abbattimento dei capi in certe situazioni e con certi con certe malattie poi bisogna fare un salto di cent'anni per arrivare a Paster che si occupò di colora dei polli e quindi di vaccino dei colora dei polli del carbone climatico ma a Paster bisogna bisogna attribuire quello che è uno dei vaccini fondamentali che è quello della rabbia rabbia una malattia tremenda che porta una volta che si manifestano i sintomi a morte certa lui riuscì a elaborare un preparato per appunto la vaccinazione dei cani partiva da conigli infettati con il virus della rabbia e tramite utilizzava il midollo spinale lo essiccava faceva delle preparazioni poi lo rendeva meno diciamo così virulento e lo iniettava con iniezioni con concentrazione crescente agli animali ai cani anzi non agli animali ai cani e li rendeva immuni ovviamente questa pratica non cioè lui era terrorizzato dal fatto di utilizzarlo nell'uomo perché era un uomo di scienza era un microbiologo un chimico ma era un uomo di scienza ovviamente quindi voleva avere la certezza che il vaccino non creasse problemi alle persone quindi ancora non c'erano studi sull'efficacia ovviamente cambiò idea perché un giorno si presentò una mamma con un con suo figlio di nove anni che era stato morsiccato il giorno il giorno prima da cani rabidi ed è questo bambino Joseph Mester la madre supplicò Pasteur di vaccinare proprio figlio lui con grande ovviamente paura coinvolgendo anche dei medici ovviamente umani vaccinò questo bambino e gli salvò la vita da quel giorno questa notizia ovviamente fece il giro del mondo e quindi molte persone si recavano in pellegrinaggio da Pasteur per essere appunto vaccinate e infatti fu fondato l'istituto Pasteur che era un luogo dove venivano accolte queste persone detto questo entriamo un pochino nello specifico diciamo così parliamo di vaccini negli animali da reddito in zootecnia quindi negli animali da reddito i vaccini sono come detto prima fondamentali vedremo per quale motivo allora intanto quando si parla di un allevamento cosa si intende allevamento allora io me lo sono immaginato per farvi capire ma lo capirete benissimo così qui vedete una scolaresca che sta a scuola quindi degli individui a stretto contatto in un ambiente comunque chiuso con della promiscuità e faccio il paragone con questo è un allevamento di broiler quindi polli da carne vedete questi sono i pulcini di pochi giorni queste astronavi sono gli alimentatori queste più in piccolo non so se vedete la freccetta sono degli abbeveratoi questi animali condividono uno spazio confinato e staranno lì fin quando non raggiungeranno il peso per la macellazione questi fili che vedete perché gli abbeveratoi e gli alimentatori vengono spostati per fare pulizia della lettiera ma anche perché man mano che cresce il pollo ovviamente devono essere alzati capite benissimo che in una situazione del genere la diffusione delle malattie infettive è veramente una cosa molto molto semplice quindi sono fondamentali misure di biosicurezze ma sono fondamentali anche la protezione degli animali anche tramite i vaccini un altro esempio vedete questa è una mensa persone che in un ambiente sempre diciamo ristretto che mangiano insieme allora mi è venuto in mente dei bovini di razza limusine che stanno mangiando questa è la corsia di alimentazione oppure dei bovini di razza frisona bovini da latte e vedete la promiscuità che c'è all'interno di un allevamento poi non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare a Woodstock ma guardando queste immagini mi è venuto in mente un bel greggio di pecore che si sposta da un pascolo all'altro qui abbiamo un allevamento di suini all'ingrasso su paglia non vi preoccupate non faccio nessun tipo di paragone con le persone qua invece abbiamo una bella scrofa con 15 maialini tutto questo per dirvi che all'interno di un allevamento la probabilità di diffusione di una malattia infettiva è veramente alta le vie di somministrazione negli animali possono essere varie la vaccinazione può essere manuale o meccanizzata può essere una inoculazione intramuscolare sottocutanea oppure per os intranasale oculonasale poi ovviamente c'è un'immunizzazione indiretta colostrale quindi è importante vaccinare la madre esempio vi faccio un esempio nei bovini visto che i bovini hanno una placenta epitelio corriale e quindi non passano gli anticorpi tramite il circolo sanguigno gli anticorpi nei vitellini vengono trasmessi solo ed esclusivamente col colostro che è quel latte ricco di anticorpi nelle prime ore di vita infatti se vedete quelle immagini anche dei documentari quando nasce un ruminante subito vedete che il vitellino tutto bagnato barcolla e va a cercare subito la mammella della madre per attaccarsi proprio perché se passano troppe ore cioè quindi dopo le 6-8 ore succede che l'intestino non è più permeabile a queste molecole a queste anticorpi e quindi l'animale non assume l'immunità quindi è importante un mese prima della nascita vaccinare le madri quindi esempio per i coli per coronavirus bovino virus senciziale ok si fanno queste operazioni i tipi di vaccini come in medicina umana sono spenti attenuati deleti ricombinati abbiamo purtroppo le stesse problematiche riscontrate in medicina umana cioè non ci sono vaccini per tutte le malattie anche ovviamente perché ogni vaccino ha la sua caratteristica quindi spesso è difficile elaborare un vaccino in più in medicina veterinaria il fattore economico gioca un ruolo fondamentale perché ovviamente si parla di soldi quindi se la cosa conviene si fa altrimenti difficilmente si possono investire dei soldi su un vaccino ecco un altro scusate un altro tipo di vaccino è il vaccino stabologeno probabilmente questo è solo in medicina veterinaria cioè in particolari condizioni epidemiologiche cioè quando all'interno di un allevamento o di un greggio abbiamo una patologia che difficilmente si combatte con una terapia o comunque una volta che crea un danno ad un tessuto poi difficilmente viene riparato cosa si può fare? Si può isolare il batterio si può ovviamente insieme all'istituto profilattico l'istituto profilattico replica il batterio poi lo inattiva fa delle prove di di sterilità delle prove in vivo e dopodiché il vaccino questo vaccino preparato viene rinoculato agli animali dell'allevamento ok? Quindi è una sorta di autovaccino esempio la mastite gangrenosa da steppelococcus laurus negli ovini è una mastite che crea proprio necrosi della mammella quindi anche se l'animale si salva la mammella poi non è più utilizzabile quindi e qua si può fare appunto un vaccino stabiologico isolarlo renderlo inattivo e poi rinocularlo nell'allevamento qua vi faccio vedere qualche strumento qua abbiamo delle siringhe automatiche quindi delle siringhe normali ma anche delle siringhe automatiche a sinistra abbiamo delle delle siringhe anche con una prolunga perché ovviamente abbiamo a che fare con degli animali che spesso sono non sono docili quindi per stare lontano dall'animale abbiamo queste questi arnesi qua tutte le volte che si schiaccia la branca della 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 siringa si inietta una quantità definita di vaccino qua invece al centro questo attrezzo qua è un uno strumento per vaccinare i pulcini il primo giorno di vita per la vaccinazione oculocongiuntivale questo invece arnese qua alla mia destra è un un macchinario per vaccinare i pesci perché come vi dicevo tutti gli animali di allevamento vengono vengono in qualche modo vaccinati qui vi faccio vedere vedete questo questo strumento non so se vedete la freccetta il puntatore lo vedete ok questo è un un vassoio estraibile quindi si estrae questo vassoio si posiziona sopra una una cassetta di cartone con dentro i pulcini poi si si spinge dentro il questo questo piano e dall'altro viene nebulizzato il vaccino adesso ve lo faccio vedere vedete si spinge dentro e abbiamo la nebulizzazione del vaccino sopra i pulcini questi sono pulcini di gallus gallus mentre qua vi faccio vedere ecco queste sono scatole di pulcini pronti per essere spediti qui siamo in un incubatoio quindi dovete pensare che c'è un allevamento di riproduttori in cui ci sono maschi e femmine e quindi le uova deposte non possono andare al consumo umano ma sono appunto uova embrunate vengono portate in un incubatoio l'incubatoio le tiene a temperatura costante nel caso delle faraone 28 giorni nel caso delle galline o vaiolo per esempio sono 21 vedete l'operatore mette le faraone in questo macchinario spingendo dentro vengono vengono vaccinati anche come vi dicevo anche i pesci vengono vaccinati esempio il salmone ha una fase di allevamento in acqua dolce poi viene trasferito in gabbie a mare quindi in acqua salata qui sono di solito fior di norvegesi oppure scozzesi nel passaggio tra l'acqua dolce e l'acqua salata e vengono vaccinati come vengono vaccinati vengono vaccinati uno a uno con questo strumento qua poi anche qua un video ve lo faccio vedere qui abbiamo un nastro dove scorre dell'acqua e dove scorreranno i pesci i pesci vengono deviati in queste piattaforme vengono arrestati qua e viene vaccinato qui c'è uno stantuffo con il vaccino e vengono vaccinati in questa maniera adesso vi faccio vedere il video vedete qui è un po' veloce però il pesce viene deviato viene arrestato poi vedete questo piano che si apre e il pesce cade sotto e continua la sua la sua corsa adesso abbiamo un'altra immagine dove si può capire meglio il rallenty abbiamo abbiamo la moduola in campo vedete il pesce viene deviato viene arrestato viene vaccinato e poi questa piattaforma si apre e il pesce cade sotto e continua la sua la sua corsa ecco qua invece non siamo più negli animali da reddito solo per far vedere un modo di somministrazione che è quello per bocca è una sono bocconi per la vaccinazione delle volpi per la rabbia silvestre quindi quando ci sono focolai nei selvatici vengono con gli elicotteri o con gli aerei vengono lanciate questi bocconi all'interno c'è il vaccino appunto per la rabbia quindi la vaccinazione è uno strumento di controllo importantissimo delle infezioni proprio perché determina la minor circolazione dell'agente patogeno un aumento dell'immunità del grege e della mandria una protezione o riduzione dell'impatto delle malattie e la cosa una cosa fondamentale è il minore utilizzo di farmaci minore utilizzo di farmaci e specialmente antibiotici sapete benissimo che l'uso indiscriminato di antibiotici ha selezionato dei batteri e seleziona dei batteri che poi non rispondono più a nessun tipo di antibiotici quindi tutte le linee di uso prudente dell'antibiotico spingono per cercare di vaccinare per evitare poi di utilizzare gli antibiotici e quindi creare antibiotico resistenza questa è una cosa fondamentale che mi preme dire che sicuramente tutti conoscete ma purtroppo dovremo fare i conti con questi patogeni resistenti a tutti gli antibiotici ovviamente minore utilizzo di farmaci quindi minor costi minor mortalità e ovviamente anche protezione contro le zonosi più gli animali stanno bene e meno rischio c'è che trasmettono malattie infettive ecco siamo giunti invece alla vaccinazione negli animali da compagnia i nostri animali da compagnia spesso sono terrorizzati dal vaccino quando arrivano davanti alla porta dell'ambulatore iniziano a tirare perché non vogliono entrare in realtà il vaccino è importante per farli dormire sogni tranquilli l'organizzazione l'associazione mondiale di veterinari dei piccoli animali ha stilato una linea guida per quello che riguarda la vaccinazione del cane e del gatto e ha individuato dei vaccini cosiddetti core che dovrebbero essere diciamo così obbligatori o caldamente consigliati che sono il virus del cimurro per quello che riguarda il cane il virus della parcovirosi l'adenovirus la rabbia l'ho messo tra parentesi proprio perché nei paesi dove la rabbia endemica è ovviamente consigliatissimo mentre poi ci sono invece dei vaccini non core che vanno somministrati in base alla situazione epidemiologica in cui vive il cane e anche il tipo di cane ovviamente un conto un cane che vive in un canile un conto un cane che invece sta in casa col proprietario quindi sarà il collega libero professionista che segue il cane a decidere quello che sarà il protocollo vaccinale per quello che riguarda questi tipi di vaccini inoltre non non mi risulta che ci sia in Europa scusate in Italia un vaccino per la malattia di Lyme cioè la Borrella Vordorferi penso che negli Stati Uniti invece ci sia esiste anche un vaccino immunoterapeutico per il melanoma maligno ovviamente utilizzato da veterinari oncologi e questo per quello che riguarda il cane per il gatto sempre i vaccini core sono l'herpes virus felino il calci virus e il virus della palleucopenia felina anche nei gatti la rabbia l'ho messa tra parentesi perché il discorso vale identico a quello del cane quindi dove la malattia endemica è importante la vaccinazione poi ci sono invece delle altre malattie che in base alla situazione epidemiologica vanno più o meno eseguite e quindi sono anche qui i vaccini non core esempio il virus della leucemia la felina i soggetti più a rischio sono quelli che sono ovviamente non stanno solo in casa ma escono e magari maschi non sterilizzati che hanno più probabilità di andare a contatto con altri con altri gatti è importante è fondamentale la vaccinazione nel cucciolo questo è una cosa importantissima perché qui sono e questi sono cuccioli colpiti da parvovirosi quindi una malattia si chiama appunto anche palleucopenia perché determina vomito abbattimento diarrea emorragica vedete questo cagnolino qua al centro con questa diarrea spesso gli animali non vaccinati vanno morte certa praticamente sicuramente richiedono ospedalizzazione addirittura ci sono delle forme fulmonanti in cui la sera prima l'animale sta bene il giorno dopo è morto specialmente nei gatti il virus poi resiste tantissimo nell'ambiente fino a sei mesi ed è resistente anche a molti disinfettanti quindi è fondamentale prima di finire il protocollo vaccinare non fare entrare a contatto il cucciolo con altri cani questo è un consiglio che do ovviamente a tutti ma i colleghi libero professionisti lo sanno lo sanno bene tutti questi i vaccini che vi ho fatto vedere non sono obbligatori sono nel territorio italiano è obbligatorio il vaccino della rabbia se una persona vuole viaggiare all'estero con i pets cioè i pets sono considerati il cane il gatto e il furetto quindi per andare all'estero e in comunità europea abbiamo bisogno di microchip passaporto europeo e vaccinazione della rabbia fatta da almeno 21 giorni ok se invece andate in un paese estero un paese terzo spesso e volentieri è richiesto anche la titolazione anticorpale cioè non solo la vaccinazione ma vogliamo essere sicuri che il cane o il gatto o il furetto abbia sviluppato gli anticorpi nei confronti della rabbia quindi se il titolo è superiore a 0,5 unità internazionali il cane il gatto e l'animale può rientrare nel territorio europeo finisco con la rabbia qui ho preso spunto da un collega bravissimo un'eccellenza che si chiama Davide Lorenzi ho seguito un suo webinar bellissimo e ci tengo a parlarvi un attimo di rabbia e concludo allora la rabbia è una malattia conosciuta da più di 2000 anni è una malattia cioè si trovano tracce descrizioni di sintomi della rabbia in testi babilonesi egiziani e tutte le fasi storiche in tutte le fasi storiche si possono trovare raffigurazioni della rabbia di cani rabidi vedete questa è un'immagine del medioevo di un cane rabido recentemente poi questa cosa qui mi fa sorridere perché recentemente ho letto Notre-Dame de Paris e l'arcidiacono Claude Frollo in un capitolo che parla con un suo collega e parla di alchimia dice Ax Pax Max questa è medicina una formula contro il morso dei cani arrabbiati ecco per dire che la rabbia si ritrova sempre inoltre è una malattia che con sintomi tremendi che è entrata nel tessuto sociale quindi si è coevoluta insieme all'uomo e se ci pensate anche il mondo cinematografico le serie tv i romanzi hanno preso spunto proprio dalla rabbia da questa malattia pensate ai personaggi che trasmettono il proprio essere la propria furia attraverso attraverso il morso pensate solo agli zombie ai licantropi i lupi mannari o anche ai ai vampiri il vampiro ti morde e ti trasforma in un vampiro questo viene proprio dalla rabbia la rabbia purtroppo è una malattia considerata una neglected disease c'è una malattia dimenticata in realtà la rabbia è presente in Africa è endemica quindi nell'uomo e negli animali e nel sud-est asiatico fortunatamente in Europa nella comunità europea in Italia siamo indeni da rabbia però dobbiamo sempre ovviamente stare attenti un attimo che accendo la luce che è buio qua scusatemi eccomi la rabbia è una malattia diabolica ha un una strategia di ingresso nell'individuo e di uscita anche appunto nel cane in una maniera veramente incredibile non prende la via del sangue dove ci sono maggiore difese immunitarie ma prende la via delle guaine nervose risale lentamente lungo il sistema nervoso e arriva a livello encefalico ed ha una encefalite e il virus si concentra poi nelle ghiandole salivari ed è per questo che il ciclo continua cioè il cane ovviamente ha un encefalite ma anche un'alta concentrazione nella saliva e questo è il modo del virus per propagarsi è una malattia che è fatale cioè una volta che l'uomo manifesta i sintomi purtroppo non c'è scampo non c'è cura il 99% dei casi umani sono dovute a morso di cane e si stima che circa 60.000 persone muoiono ogni anno di rabbia quindi una morte circa ogni 9 minuti poi ci sono altri studi che dicono 10-15 minuti comunque è una cosa che ad oggigiorno ancora succede in maniera veramente importante poi questo dato è sottostimato perché ovviamente dovete pensare anche al tipo di popolazione in cui ci sono popolazioni rurali e quindi molte morti non vengono ovviamente registrate purtroppo una buona parte di queste persone che muoiono sono bambini perché ovviamente sono i bambini che giocano con i cani ed è una malattia che per assurdo è al 100% prevedibile con la vaccinazione cioè col trattamento post contagio da eseguirsi dopo ovviamente essere a contatto con un cane rabido la vaccinazione salva la vita della persona il problema è che questo profilassi ha un costo di dai 40 ai 50 euro dollari rispetto a diciamo se siamo in Africa o nel sud-est asiatico il problema è che spesso queste popolazioni hanno guadagnano queste persone 50 centesimi al giorno quindi c'è un problema economico un problema di cultura di informazione si è visto che tornando al nostro visuale importanza dei vaccini che se si vaccinano il 70% degli animali nell'aria rischio si interrompe il ciclo della rabbia quindi è fondamentale la vaccinazione nel cane i sintomi sono ovviamente anche nel cane la rabbia down incefalite il via di ingresso è sempre per i nervi come nell'uomo abbiamo una fase di incubazione che possono essere due otto settimane dopodiché manifesta una forma appunto la forma classica la forma furiosa quella che tutti noi abbiamo nell'immaginario no che è quello caratterizzata da disturbi psicomotori eccitativi da alterazioni della fonesi paralisi dei masseteri del faringe con perdita di saliva e ovviamente dopodiché il cane viene morto ma queste persone non si incontagiano prevalentemente con questa forma vedete guardate qui abbiamo un cane con la rabbia con la forma furiosa vedete tende a a mordere dal vetro c'è una persona che gli avvicina la mano ma morderebbe qualsiasi tipo di oggetto però ovviamente questo è un cane che ti mette in allerta può essere ovviamente sei contagiato anche da questo ma è più difficile invece guardate questo questo cucciolino qui siamo in Sudafrica immagini sempre del dottor De Lorenzi vedete è un cucciolino che apparentemente è normale invece ha la rabbia è accettato dagli altri animali gli altri animali lo annusano apparentemente è un animale sano lui è qui scodinzola e in questo questo cane qui ci giocano i bambini ovviamente vanno a giocare ma guardate improvvisamente il cane visto che ha già i sintomi della rabbia cosa fa ecco guardate sferra un morso a questo cane e in questa maniera trasmette trasmette la rabbia dopo di che se morde una persona cosa succede purtroppo succede questo qui è un bambino che probabilmente è venuto a contatto col virus della rabbia magari un mese fa anche anche di più vedete ha questi questi spasmi questa sintomatologia neurologica è un bambino che ha difficoltà non riesce a deglutire la madre poveretta non capisce che cosa ha suo figlio vedrete che fra poco la madre prova vedete il bambino sputa perché ha questa salivazione non riesce a deglutire la madre gli prova a porre dell'acqua guardate il bambino che ispirazione che ha perché una volta che si avvicina l'acqua degli spasmi faringei dice che ha un problema alla bocca anche la madre ovviamente poveretta è convinta che abbia qualcosa alla bocca o in gola quindi qua fa un nuovo tentativo purtroppo il bambino non riesce a deglutire sputa di nuovo poveretto ecco guardando queste immagini che sono veramente terribili poi invece guardiamo questi grafici vedete come quindi con la linea Bordeaux indica in Messico qui siamo in Messico più man mano aumenta la vaccinazione nel cane minore sono i casi di rabbia nell'uomo vedete che decrescita importante che ha dopo che sia fatta una vaccinazione a tappeto sui cani lo stesso potete vederlo in Sri Lanka stessa cosa nel corso degli anni più i casi di rabbia sono diminuiti al crescere delle vaccinazioni fortunatamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità la FAO e l'Organizzazione Mondiale dell'Animal Health cioè l'Organizzazione Internazionale des Episosi e altre associazioni come anche Mission Rabis in cui lavora cioè diciamo così partecipa anche il collega De Lorenzi si sono posti un obiettivo che è quello di entro il 2030 di portare a zero quelle che sono le morti nell'uomo dovute alla rabbia come con informazione ma prevalentemente con la vaccinazione negli animali vedete qua delle immagini con con vaccinazione quindi bambini che portano il proprio cane per la vaccinazione contro la rabbia ecco io termino qua la mia presentazione con la speranza che veramente si arrivi a questo risultato perché la rabbia è veramente una malattia diabolica e la soluzione c'è e bisogna perseverare grazie per l'attenzione una relazione molto istruttiva quindi una panoramica efficace ecco chiaramente suscita e anche qualche preoccupazione della rabbia io ricordo in Italia regionale di aver incontrato diciamo gruppi di cani randaggi tre quattro insieme che sono suscettibili di essere portatori di questa malattia e no non esiste questo problema nel nord Italia perché sono i canini che funzionano e quindi questo diciamo che ci mette in una condizione di sfruttare e come si può accettare questa situazione di animali che sono pericolosi la causa so che una delle fonti è l'abbandono dei animali da parte di responsabili no chiaramente possono ammalarsi a loro volta abbandonati comunque veramente sono problemi molto seri non so se ci sono domande da parte di professore sì infatti ovviamente la lotta alla rabbia si fa sicuramente col vaccino ma con come abbiamo fatto noi cioè la lotta al randagismo perché il randagismo è da combattere di pari passo e diciamo così insieme alla vaccinazione è lo strumento per proprio debellare infatti i cani infatti devono essere per legge microcippati identificati entro 60 giorni di vita ok quindi c'è tutta una lotta anche al traffico internazionale di cuccioli perché cuccioli che provengono dall'estero quindi anche da paesi come può essere la Serbia dove l'Arabia ci può essere quindi sicuramente bisogna porre attenzione anche al randagismo sicuramente grazie ma il vaccino che viene somministrato di seguito al mosso e questo vaccino dato che deve avere un tempo entro quanto tempo deve essere inoculato che abbia efficacia perché il prima possibile il prima possibile anche perché poi non è solo un vaccino ma anche un siero immune quindi siero più più vaccinazioni quindi non ne basta uno ma vengono fatti più più vaccinazioni scusi no perché volevo dire una cosa solo che mi è passata di mente mi ha chiesto quanto tempo può passare entro quanto tempo bisogna vaccinare scopriare ecco lo volevo dire scusi prima possibile infatti gli ultimi decessi di persone in comunità europea purtroppo sono morte delle persone che sono andate all'estero sono state morsicate all'estero non hanno fatto nessun tipo di prevenzione sono tornate in Europa e dopo hanno manifestato la rabbia e purtroppo sono morte quindi ovviamente prima possibile prima possibile un altro elemento di diffusione della malattia è il sovraffollamento negli allevamenti io ricordo che mia madre quando prendeva i cucini verso maggio si teneva dalla galletta e che poi sarebbero diventati galline eccetera ma non mi ricordo che abbia cittadino mai stati somministrati per i cucini esattamente perché poi vivevano allo stato bravo c'era l'unica cosa l'unico intervento era mia nonna che veniva castratta e usava usava la farina per rispettarla e faceva è un sistema diciamo contadino sì sì è un sistema veterinario diciamo eccessionalmente e quindi non c'erano altri farmaci da somministrare malattie eccetera qualche noncino poteva diciamo morire perché cominciava col mangiare di meno gli altri prepotenti lo allontanavano è tutta una catena mi ricordo che dicevamo in carrozza andando in carrozza il cucino e alla fine mai veniva beccato eccetera adesso andiamo a provare a calizionale per la calizionale per la prima abbiamo un sacco di domande però così almeno ci guardiamo in faccia complimenti intanto quello che ci aspettavamo ce l'hai dato e con abbondanza e lo inizio ai particolari grazie per questa bella relazione una domanda legata soprattutto agli allevamenti intensivi che mi viene in mente pensando con l'esperienza recente del coronavirus quello con cui abbiamo dovuto confibere nel recente passato e la evoluzione del coronavirus per cui ha richiesto nuove strategie negli animali da allevamento la mutazione virale per cui la malattia cambia cioè il responsabile la malattia cambia e quindi è necessario cambiare il vaccino parlo di animali come i polli come i bovini come i suini questa evoluzione del virus è un fenomeno frequente o ormai è abbastanza stabilizzato cioè le vaccinazioni che vengono usate negli allevamenti per lunghi periodi restano invariate perché il virus non muta allora ovviamente perché lì dipende dal tipo di virus ok quindi dobbiamo sempre pensare che in medicina veterinaria abbiamo anche un altro strumento che è l'abbattimento che ovviamente è una cosa che l'opinione pubblica fa fatica ad accettare io capisco però nel momento in cui penso all'influenza aviaria si ha un ceppo altamente patogeno quindi stiamo parlando di H5N1 ovviamente si abbattono tutti i capi e si fa stamping out si azzera tutto perché ovviamente il rischio di poter trasmettere poi questa malattia ad altri allevamenti o alle persone ovviamente è troppo alto quindi si cerca di spegnere i focolai all'insorgenza è chiaro che la pressione virale all'interno di un allevamento è molto alta pensate solo ai passaggi che fa il virus tra una mano e l'altra stiamo parlando di non so allevamenti da 10.000 20.000 polli li fa presto a mutare quindi sì abbiamo in medicina veterinale anche questi strumenti e di solito però c'è una stabilizzazione del virus cioè diciamo i vaccini i vaccini bene o male sono quelli la dottoressa forse la vede in faccia anche grazie infinite anche per tante cose nuove che ho imparato io non avevo la minima idea che si potessero vaccinare i pesci dottore sinceramente ascolta invece ho qualche domanda molto molto semplice e banale ho visto una settimana fa un morso di un cane di una mia nuca ecco la prima cosa che mi ha detto è va tranquilla il mio cane è vaccinato e io ho detto va bene ma che vaccino a tutti tutto il possibile però assicuro che il morso era in questo fondo e anche brutto allora io mi chiedo ha un senso fare un prelievo un tampone su questo morso perché non c'è solo la rabbia oppure basta un antibiotico ad antiospetro è morta là una cosa un'altra domandina è che l'anno scorso io ho sentito dove sto in campagna ci sono moltissimi arrivamenti di polli e a richiesta dei nostri super chef qualcuno dà dei coloranti ai polli perché vogliono il rosso dell'uovo chiaro oppure scuro a me questo ha fatto molta preoccupazione perché se mangiamo anche i coloranti però lei ha detto che ci sono un sacco di controlli allora cosa fanno gli danno da mangiare la calendula o effettivamente queste sono cose controllate o mica tanto ok ho visto quei bocconi intelligenti per le volte che ce ne sono molte ecco e gli altri animali del bosco voglio dire se se li mangia un un bambi e viene vaccinato anche lui o non ha nessun problema da questo punto di vista l'altro ungulato grazie allora aspetta dottoressa stia lì perché magari mi ricorda le domande che non c'ho una grossa memoria troppo raffica no no partiamo con la prima la prima mi ha chiesto al discorso del morsicatore allora allora prima c'era il regolamento di pulizia veterinaria che è stato abrogato nel l'anno scorso e tutti i cani che mordevano erano sottoposti a osservazione cioè si poneva il cane in osservazione per 10 giorni per vedere se sviluppava la rabbia però c'era una sorta di rapporto morso uguale rabbia in realtà non è così questo è vaccinato sì ma no il vaccino adesso non c'entra guarda adesso le spiego allora il discorso della rabbia è che il territorio italiano è indenne da rabbia la rabbia non c'è ok il discorso del morso è che ovviamente la bocca lei mi insegna che è ricca di esatto di batteri ok le vaccinazioni che si fanno sugli animali sono specie specifiche sono per diciamo così malattie che si trasmettono da cane a cane ok a parte la leptospira che leptospira è anche una zonose ovviamente però quindi la problematica diventa un'altra sicuramente ecco fare il richiamo per il tetano perché comunque è una ferita profonda e quindi ci può essere il tetano però il fatto che il cane sia vaccinato meno nei confronti delle patologie del cane non è importante è una ferita profonda infetta quindi c'è bisogno di una copertura antibiotica ok quindi il fatto che sia vaccinato o non vaccinato non è chiaro se è vaccinato per la rabbia siamo sicuri che la rabbia non c'è a maggior ragione se è andato all'estero deve essere stato vaccinato se è andato in un paese terzo deve aver fatto anche la titolazione anticorpale quindi comunque il problema invece nasce per il discorso della aggressività non controllata spesso si sente il cane che ha zannato un bambino allora quello si va a vedere per stabilire se il cane è controllato o meno dal proprietario e quindi in quel caso lì si prescrivano azioni correttive che possono essere l'uso della museruola in tutti gli spazi pubblici non lasciare il cane da solo con dei bambini oppure prescrivere dei percorsi riabilitativi del cane e questa cosa di solito si fa attraverso un'ordinanza del sindaco cioè noi dell'USL facciamo una proposta al sindaco di ordinare a questa persona di fare tutte queste cose che le ho detto ok quindi il controllo avviene in questa maniera questa è la prima domanda la seconda era su quella delle uova di diversi colori ah ecco allora qui dipende dal mercato nel senso che se lei vuol fare delle belle tagliatelle gialle ci vuole un tuorlo giallo ok però se il tuorlo giallo lo porta in 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 nord Europa loro dicono ma cos'è questo uovo lo buttiamo via perché è troppo giallo perché loro sono abituati a mangiare a alimentarsi con un un tuorlo più bianco quello che fa la differenza sono i carotenoidi carotenoidi che sono presenti esempio nel mais se lei è una gallina gli dà poco mais diventa i tuori diventano bianchi se invece gli dà molto mais diventano gialli quindi sono carotenoidi di solito di origine naturale capito quindi non tossici la colorazione no la colorazione dipende dipende dal mercato un po' come la carne no la carne marezzata se lei va a prendere una bella fettina di carne ma è piena di grasso lei non la compra la lascia lì se invece va nel nord Europa quando la vedono bella ricca di grasso la pigliano perché in realtà è più tenera è più però noi non la vogliamo grassa è vero in realtà il grasso è quello che dà la tenerezza quindi alla fine terza domanda la terza domanda era e quei bocconi per le volpi ah sì il vaccino ecco se se li mangiano gli altri ovviamente sono appetizzati per i carnivori e quindi un ruminante non li tocca non li tocca no no grazie molto e un'ultimissimissima cosa perché sono curiosa quali erano le malattie dei pesci per cui valeva la pena vaccinarli allora perché noi quelli che li pescano lì nei fossi o nei noi nei nostri fiumi mio fratello andava a pesca e ne pescava e non ci siamo mai posti il problema e anche ci sono tante trotticolture su nella nostra valle e non ho il trotticoltura proprio non avevo non credo che abbiano un macchinario di questo genere delle nostre piccole realtà no però non è possibile dargli un mangime che sarebbe più facile viene dopo dipende anche lì dal tipo di vaccino e quindi sicuramente ci sono anche dei vaccini che si danno per bocca adesso non sono un esperto di non le so per rispondere in maniera in maniera puntuale ecco però sicuramente è vero anche che se lei pensa la somministrazione di un vaccino per bocca ovviamente deve anche considerare l'inquinamento che fa perché cioè poi il vaccino viene disperso quindi viene disperso nel fiume e mi pulisce anche tutti gli altri non è così perché è sempre funziona in questo modo mi rimane sempre quella richiesta strana qual è la malattia del pesce che bisogna non glielo so dire però ci sono delle malattie per cui si vaccina perché sì noi siamo abituati nel nostro vissuto un pesce ammalato muore e quello lì non si può mangiare punto e basta no va bene va bene però molto semplicistico però però lei deve pensare ad un allevamento un allevamento che ha fatto prima il presidente è chiaro che un conto è le galline e i pulcini della zia certo magari ne ha dieci un conto diecimila lo stesso il pesce cioè se lei vuol mangiare purtroppo lo dico se vuole mangiare il pesce a non so dieci euro al chilo ci vogliono gli allevamenti se invece è disposta a spenderne cento allora si possono ci manda qualcuno che lo peschi grazie infinite niente niente bene allora grazie grazie concludiamo perché non ci sono da remoto domande richieste di approfondimento eccetera la ringraziamo moltissimo e le auguriamo buon lavoro buona presunzione del tuo preziosissimo lavoro in questo campo particolare grazie a voi grazie a tutti ciao volevo salutarti anch'io grazie e restiamo in contatto allora d'accordo grazie saluto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti